Capitolo 3 Or, in quei giorni, comparve Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e dicendo, «Ravedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse, «Ve' una voce d'uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, adrizzate i suoi sentieri». Or, esso Giovanni, aveva il vestimento di pelo e di cammello, ed una cintura in cuoio intorno a fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese d'intorno al Giordano presero ad accorrere a lui, ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma, vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro, «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggir dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non pensate di dir dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo, e gialla scure è posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque, che non fa buon frutto, sta per essere tagliato e gittato nel fuoco. Ben vi battezzo io con acqua, in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non son degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha il suo ventilador in mano, e netterà interamente l'aia sua, e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù, dalla Galilea, si recò al Giordano da Giovanni, per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva, dicendo, son io, che ho bisogno d'essere battezzato da te, e tu vieni a me? Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuor dall'acqua, ed ecco i cieli si apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba, e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto.